Mangiano di waffle, allora si mette con la pastella dentro sto coso, pastella qua, poi si gira e viene alla fine questo questa roba fatta in casa, non industriale ecco, allora tutto rotto devi usare anche la mano, tirare un po' su ah però si stacca abbastanza bene adesso si mangia, si dice, appena fatto come le facevano le vostre no un po' di sciroppo d'aceno, che non guasta mai e tutto va bene che hai messo, mambellata? questo di qui ha un natural bridge dove c'è un ah ecco, natural bridge rocks c'è una specie di arco naturale però è racchiuso, non siamo potuti andare c'è la neve vai sopra non so se è sicuro viene a tenervi per macchio mentre salgo poi mi fanno il bordo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.